La Galleria Paglino lungo la strada internazionale del Sempione versa in condizioni di pericolosità a lanciare l'allarme a un automobilista che ha segnalato il fatto, oltre che ai mezzi di informazione, anche al personale ANAS in servizio lungo la strada che collega la Valle di Vedro al Canton Vallese. Si tratta dell'ultimo tunnel stradale che si incontra prima di il confine con la Svizzera. L'allarme arriva dal fatto che parte del rivestimento della galleria è crollato. Questo ha causato uno squarcio nel rivestimento della parete. Il danno è visibile ad occhio nudo. A causare il cedimento potrebbe essere stata una infiltrazione di acqua. A lato della strada non c'è traccia del materiale caduto. Segno evidente che il luogo è stato ripulito e la questione dunque nota chi di dovere. Mi chiedo, dice l'automobilista, se il cemento staccatosi dalla parete fosse caduto su una vettura di passaggio, cosa sarebbe successo al conducente? Peraltro il problema non sembra essere circoscritto alla sola parete destra della galleria. L'infiltrazione di acqua si estende anche alla volta fino a investire la parete opposta. Un tunnel, quello di Pallino, già noto perché teatro in passato di fatti di cronaca. Il versante montano che sovrasta l'imbocco sud della galleria è da anni osservato speciale. La lunghezza del tunnel avrebbe dovuto essere aumentata in maniera da rendere più sicuro il transito di una strada internazionale che è percorso ogni anno non solo da molti camion ma anche da diverse autovetture. I lavori sono iniziati ma in toppi di natura burocratica collegati al fallimento della ditta che ha vinto l'appalto ha bloccato il cantiere. Lo stato dall'arte rende bene l'idea del lavoro iniziato e mai completato. Grazie per la visione!